Alla love! Ciao belli, ciao belli, vorrò tu gacchio e sarà il terzo video che vedete secondo se non metto il primo chi m'ha visto il video di Anzi guardate quanto è più bello con questo allora vi voglio far vedere dei prodottini che mi sono arrivati da una ragazza allora la ragazza è stata gentilissima e mi ha mandato una paccata di roba allora innanzitutto no dimmi che ho lasciato di là ah no me ne ho male allora si chiama Pure Derm lo cercatela allora innanzitutto la ringrazio con tutto il cuore perché veramente è stata gentilissima e mi ha mandato una balla di roba e ho detto lo devo far vedere per forza poi oggi sono molto figacciona dunque la tipa cioè ciao cercatela pure su Instagram Pure Derm Italia se riesco vi metto la scrittina qui ma se no non ci rischia e quindi ve lo metto nell'info box la l'icona comunque anche di Instagram è questa allora praticamente fanno tutti i prodotti per il corpo sì ciao per la cura della pelle e anche make up allora la cosa più bella mi ha mandato una balla di ciglia finte e io appena l'ho vista sono morta ve lo giuro morta allora mi ha mandato me l'ha anche chiesto e mi ha detto se avevo piacere a riceverle sono delle ciglia finte particolari quelle fatte a farfalla con il disegno allora le ciglia finte sono queste lei mi ha chiesto di fare un trucco ora mi sa che vi devo togliere questi usini sopra e non ci vedete una mazza allora vedete questa c'ha gli uccellini sì che vedete dai questa c'ha le alette e queste sono riutilizzabili i fioricini perché a me mi erano arrivate un sacco di tempo fa non mi ricordo a chi fatte di carta cercherò di fare vedete il dovrebbe essere questo il il risultato cercherò di fare qualcosa e ve lo farò sapere ve le farò vedere e poi le altre ciglia invece quelle finte che per me cioè insomma per il trucco normale sono queste molto belle dunque queste sono uguali ok queste sono leggermente più corte delle altre poi ci sono invece queste che mi garbano un sacco molto più leggere e poi ci sono queste con la parte più lunga di qua e più corta di qua queste mi piacciono molto ok veniamo al me vi faccio vedere prima il make up e poi i prodotti le maschere allora questa qui è una palettina smokey eyes purple by christian fai smokey eye e basta si chiama allora la paletta è questa fatta così si apre con naturalmente il suo specchiettino e al di sotto trovate i vari ombrettini la cosa che mi piace di più è che i colori a me mi fanno impazzire allora abbiamo i numeri 1 2 3 non so se ci avete fatto caso ma qualche volta lo vedete anche su instagram ti fanno vedere 1 2 dove mettere il prodotto quindi abbiamo 1 guardate quanto sono cacchio pigmentati vediamola 1 poi c'è il nero che spacca cioè oh mio dio il che poi c'è sti viola me la bra bestia viola il 4 che è questo un po' più glitterato poi quello più chiaro e il panna in fondo da mettere sotto l'arcata quindi avete come profumano avete tutti i vari step e il pennellino quindi questa devo dire che è una cosa molto utile per chi magari ha cominciato da poco a truccarsi i colori sono belli sono pigmentati ora io per adesso non l'ho testata assolutamente altrimenti lo sapete ve lo direi anche perché mi sono arrivate ieri l'altro e qui il make up veniamo adesso alle maschere che sono una cosa che mi fa impazzire di più allora mi hanno mandato queste tre allora io sto cominciando ad utilizzarle adesso vanno tanto di moda queste piccole forme della faccia che io sinceramente odio cioè non è che le odio però non mi fanno troppo a genere però abbiamo age define collage mask faccina del collagene super nutriente e anti age questa quindi la classica faccina come vi ho detto poi invece abbiamo faccina all'aloe idratante e dopo sole e qui c'è uh già loro hanno questi prodotti tipo siliconici che vanno messi sulle labbra e nelle occhiaie io volevo quelli lì sotto le occhiaie ma ha detto che gli sono erano terminati e gli tornavano a dicembre a gennaio e quindi a me ha mandato il lip da mettere sulle labbra che infatti lo volevo assolutamente provare però ho detto prima glielo mostro e praticamente niente mettete questo lip sulle labbra e poi lo togliete dovrebbe idratare io delle labbra in questo periodo fanno pietà ora da stasera anzi da ieri gli sto facendo un po' di scrub miele e zucchero perché mamma mia poi abbiamo invece le due maschere top allora qui abbiamo la gold e la diamond allora come sappiamo io continuo a guardare qua perché invece il pallino sta qua tutti conosciamo le maschere nere addirittura a me mi è stata mandata una maschera nera da un'altra ditta poco tempo fa non mi dispiace anche me la mi è stata mandata non mi dispiace però loro avevano questa qui che era diamond e questa era gold la gold è una vita la volevo provare io la gold ancora non l'ho provata perché comunque mi sto facendo quasi una maschera al giorno la mia pelle ha buttato fuori di tutto e comunque una maschera al giorno non è che mi fa troppo bene la diamond invece l'ho già provata ed è super glitterosa a parte fa un profumo pazzesco la togliete benissimo perché solitamente tante maschere si tolgono così no? però quando poi le vai a togliere si tolgono male invece questa nonostante non abbia messo io un quintale di roba si è tolta molto molto bene e qui c'è scritto la faccina del buon umore e ha lasciato una pelle fantastica cioè lasciatemi dire fantastica molto morbida perché solitamente io non vedo grandi differenze nelle maschere no? perché io comunque non ho una pelle problematica quindi non ho brufoli ho una pelle normalissima da cinghiale diciamo così perché qualsiasi cosa mi spiace che sulla pelle non si sente non si vede invece le maschere che poi si vedono un po' di più quindi mi fanno un po' più mi danno nell'occhio e quindi vedete guardate questi puntini qua tutto ciò sta venendo fuori vedete di qua non ce l'ho perché c'ho questi puntini ora che ci ripenso perché l'altra sera mi sono controllata con la pelle perfetta perché facendomi una maschera al giorno però non vorrei che poi addirittura li facesse male comunque la diamond è pazzesca se riesco ve la faccio vedere allora ecco è diamantosa così non la voglio sprecare scordatevelo non c'è sa di vaniglia eccola qua e poi ve la distribuite ok e poi vi si secca e la togliete a me è piaciuto un botto comunque ho anche la foto su instagram quindi se volete andare a vederla andate e guardate pure più dermitalia e la gold non l'ho neanche aperta la apriamo insieme allora eccola qua anche questa ha lo stesso odore meraviglioso dell'altra veramente cioè mio dio eccola porca troia non la volevo sporcare eccola qua oh semmai guardate quant'è bella allora questa gold oddio non capite quanto profuma cioè non potete non potete capire ma poi allora quella nera che invece mi hanno mandato nonostante sia bella perché mi è piaciuta questa si ristende molto molto meglio hanno quell'altra nera è una bella cadollona quando la stendi proprio sembra che sia gomma no questa invece devo dire che è molto si stende molto bene a questa particolarità come vedete riesce ad amalgamarsi bene quindi boh stasera naturalmente oggi è la vigilia stasera proverò la mia mascherina d'oro naturalmente mi pulisco le mani sempre sotto la scrivania se guardate cosa c'è sotto la mia scrivania vi sentite male allora non ho più nulla da far vedere fortunatamente quindi niente io vi faccio tanti 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 auguri e vi auguro di passare il Natale con le persone più amate non so quando metterò questo video quindi probabilmente dopo Natale quindi riceverete gli auguri di Natale dopo ma tanto ve li ho già fatti su Instagram io vi mando un grande bacio fate brave spipeggiate poco vi lovo tantissimo guardate quanto è bello sto coso cioè non si può dire che non è bello sulle labbra poi però come lo bagni mio more more se ne va ciao love e ne so ne spengo mai la prima eh